buongiorno ragazzi altro altro che Marotta League altro che Marotta League lo abbiamo visto anche contro il Napoli io non mi lamento mai degli arbitraggi voi lo sapete bene ma non mi sembra che ci abbiano favorito nell'ultima partita quindi la Marotta League chi si attacca agli arbitri parlo dei 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 detrattori secondo me a nostro favore chi ci ha detto per tutta la stagione Marotta League quello è un segno di eh inadeguatezza proprio degli avversari perché non sanno come attaccarci perché l'Inter è la squadra più forte in assoluto del campionato e lo ha dimostrato sul campo e e quindi come ci dicevano a noi quando non vincevamo nulla pur spendendo tanti soldi soprattutto nell'era Moratti diciamo che attaccarci agli arbitragi è un po' è l'alibi del perdente parlo ai Juventini e ai Milanisti siete voi i perdenti ora non siamo più noi anche perché l'ultima Champions tra l'altro in Italia l'abbiamo portata a noi e le vostre ormai si stanno cristallizzando state attenti quando le pulite perché non gli fate prendere troppo sole perché si si polverizzano da come sono vecchie ma a parte quello per come la vedo io non aspettano altro che rallentare questa corsa questo treno in corsa che è l'Inter in campionato per renderlo più interessante perché ormai questo questa serie a poco senso eh perché ha poco senso non perché è un campionato scarso come qualche detrattore dice questa serie a ormai ha poco senso perché l'Inter ha ucciso il campionato in termini calcisti o l'Inter lo ha devastato lo ha messo sotto sopra questo campionato prendendo a pallonate chiunque giocando a calcio su tutti i campi facendo vedere un calcio moderno delle cose bellissime quindi secondo me loro non aspettano altro che che rallentarci allora perché perché io mi arrabbio perché allora innanzitutto tra Sherby e Juan Jesus c'è uno che mente tra Sherby e Juan Jesus c'è uno che mente e qualora si venisse a scoprire che in mente secondo me deve avere una punizione esemplare indipendentemente dalla maglia che indossa anche perché noi siamo fratelli del mondo quindi qualora Sherby avesse sbagliato secondo me è giusto sarebbe giusto farlo pagare però Sherby dice c'è chi dice che Sherby non gli ha detto nulla poi dice che gli ha detto quella cosa che secondo lui non è un'offesa poi c'è chi dice che ha chiesto scusa vediamo ci saranno ora gli interrogatori vediamo chi dice la verità perché tra i due c'è uno che mente io però ti voglio dire una cosa siccome ho appena sentito anche un avvocato qualora Sherby avesse ragione c'è di là Juan Jesus se Sherby ha ragione questo lo stanno verificando loro e soprattutto chi di dovere chi del mestiere qualora Sherby avesse ragione io non aspetterei a far partire una querela perché comunque Juan Jesus dice delle cose gravi sempre se è vero che Sherby non ha detto nulla io questo non lo so ma qualora Sherby non avesse detto nulla voglio dire la querela è la prima cosa perché comunque l'immagine di Sherby e soprattutto anche dell'Inter si sta sporcando un po' quindi io penso che convenga a tutti dire la verità perché anche la stessa Inter che parlo della non voglio parlare di cinese parlo della della dirigenza parlo della società è in difficoltà in questa cosa qui qui li capisco non sanno cosa fare dobbiamo parlare con il calciatore qui l'Inter la capisco non c'è nulla da criticare perché è è una cosa gravissima questa bisogna capire bene cos'è successo ma se Sherby ha detto quelle cose è giusto che paghi non me ne frega nulla anzi ha maggior ragione perché te indossi quella maglia a parte non conta più ma più che la maglia cioè conta chi la indossa quella maglia capito cioè questo è il problema bisogna capire chi la indossa e se Sherby ha detto quelle cose è giusto che vengo a scolificato basta tanto nelle prossime ore sapremo un video magari che ne so di uno spettatore che era lì o una testimonianza sapremo chi dice la verità e chi mente perché ragazzi tra i due c'è uno che mente tra i due c'è uno che mente non capisco che vantaggi possa avere Juan Jesus qualora eh dicessi la verità Sherby a mentire perché stanno bombardando anche da Napoli no il razzismo Juan Jesus si è incavolato perché dice mi ha chiesto cioè non ci sto capendo poco in questa situazione c'è qualcosa che non mi torna ti dico la verità ma chi ha sbagliato è giusto che paghi Ibrahimovic con Lukaku prima gli dice Monkey dal labiale si legge Monkey gli dice Monkey poi lo vanno a punire Ibrahimovic dice no no io ho detto Donkey non Monkey ho detto Donkey quindi gli danno due o tre giornate se non sbaglio e finisce tutto a taralluce e vino qui vediamo come va a finire poi ragazzi eh quelli quei deficienti che insultano da Anfris dandogli della scimmia un conto sono le persone sugli sparti e un conto sono i giocatori e si offendono è tutta un'altra roba non puoi squalificare lo spettatore l'idiota che dice quelle cose lì mentre il calciatore che eventualmente dice quelle cose lì lo puoi squalificare eh questa è questa è questa la differenza io però te lo ripeto Maremma Gatta Mannara non aspettano altro che rallentare la corsa dell'Inter io te lo dico e non ho mai parlato di arbitri mai da quando sono su YouTube ma io me lo sento che prenderanno la palla al balzo qualora ci fosse anche un minimo di prove loro secondo me prenderanno la palla al balzo e ci bastoneranno e lì la colpa bisognerebbe darla anche a Cerbi qualora avesse fatto qualche errore io spero che a Cerbi non abbia fatto nulla perché sarebbe davvero brutta come cosa lui dice di nuovo è fatto nulla ok crediamo a lui quell'altro dice mi ha detto negro ok bisogna rendere a tutte e due fino a quando non ci sono le prove anche se ci sono state condanne senza prove attenzione eh sono stati condannati dei giocatori senza prove tangibili alla mano attenzione attenzione in quello che succederà nelle prossime ore da quello che succederà nelle prossime ore dalle dalle valutazioni che faranno nelle prossime ore ma già da qui a stasera secondo me capiremo subito che venticello tira perché oltre al danno perché comunque a Cerbi è il perno della difesa attenzione poi dopo avremo tutti contro stampa già ci stanno massacrando già qui non parla nessuno sarebbe un danno grosso io te lo dico attenzione non aspettavano altro che affossarci attenzione questo anche perché perché non esiste una proprietà perché l'Inter viaggia con un presidente smart working che non si sa dov'è ed è senza proprietà è piena di debiti e tutti ci l'hanno addosso e nessuno ci difende e nessuno parla ho sentito nelle ultime ore che l'Inter è in maniera forte su Gudmundson quando te lo dicevo io l'anno scorso prendi Gudmundson cosa te ne fai di Arnautovic prendi Sanabria del Torino più volentieri Gudmundson è un calciatore che mi piace tantissimo ma magari farò un video oggi pomeriggio in caso se l'Inter prende Gudmundson fa bingo te lo dico io grande giocatore che lega i due reparti fa densità al centro campo allascia il gioco cioè allascia i reparti tra centro campo e attacco può giocare dietro la punta può giocare punta esterna a destra punta esterna a sinistra seconda punta accanto alla prima punta Gudmundson è un grandissimo giocatore ciao Inter grazie a tutti